ciao a tutti nell'ultimo video delle mozzarella e molti di voi mi hanno chiesto se si potevano fare senza caglio allora oggi vado a mostrarvi un formaggio che si può fare senza caglio si chiama paneer è un formaggio famoso in india e serviranno soltanto due litri di latte che ho già messo in questa pentola il succo di mezzo limone un pentolino con dell'acqua calda un colino dove andremo a mettere all'interno un canovaccio e poi un pizzico di sale per andare a insaporire il nostro formaggio prima cosa accendiamo il fuoco sia sotto al latte che sotto l'acqua mentre il latte e l'acqua iniziano a scaldarsi spremiamo il limone ricordatevi il succo di mezzo limone e appena il latte prende il bollore andiamo aggiungere il succo di limone mi raccomando ricordatevi sempre di mescolare il latte per evitare che si attacchi al fondo andiamo aggiungere il latte per evitare 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 Versato il limone, spegniamo la fiamma, diamo una mella mescolata e aspettiamo per almeno 5 minuti. Tra l'altro ho dimenticato di dire che se non avete il limone potete fare la stessa cosa con due cucchiai di aceto bianco, di mele, di vino, quello che avete in casa. Trascorsi i 5 minuti versiamo la nostra cagliata nel nostro canovaccio. Il siero che avanza lo potete raccogliere o utilizzare per il vino di latte, di cui naturalmente ho già postato il video, o nell'impasto del pane o della pizza, daranno quel tocco in più buonissimo. Una volta drenato tutto il siero andiamo a lavare la nostra cagliata con l'acqua calda. Naturalmente ci mettiamo nel lavandino, occhio a non bruciarvi, una volta che l'acqua è andata via, spolverata di sale e andiamo a dare la forma al nostro formaggio. Naturalmente ci mettiamo la nostra cagliata. Quindi è continue di mettere nella domestica. drenato per bene occhio non esagerate altrimenti rimane troppo asciutta e occhio anche a non bruciarvi diamo la forma mettiamo sopra un altro piatto facciamo una leggera pressione e poi controlliamo che se il piatto si sbilanci un po non si versi tutto perché sopra andremo a mettere una pentola piena d'acqua così da avere qualcosa di pesante che tiene il nostro formaggio bello compatto ci rivediamo tra mezz'ora per la degustazione ok Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Bahut Chantal Che in indie significa spettacolare Mi raccomando non perdete il prossimo video perché andremo a utilizzare il nostro paneer per fare un'altra ricetta Grazie 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 Grazie